Perchè ragazzi, per vedere questo è il mio vicinissimo video. Oggi sono qua tornato dal meccanico e diciamo che manca metti i pedali insomma è tattica eh, con pedali nuovi, belli perchè quindi mi sono rotto a farli impellate adesso andiamo col grip e più importato, quindi ottimo, grazie un po' di schianco della mia nonna, bella, bella dunque, adesso siamo tornando a casa con delle cagate ok, comunque siamo tornando a casa sto andando per la piazza, mi sembra una difficoltà questa roba in testa però vabbè dai, lo faccio per i canali youtube è solo per andare addosso qui forse mi guardano male ragazzi facciamo provare il marciapiede sono semplici video adesso devo ammassare perchè ho una telecamera in testa non mi fa scherzi non mi fa scherzi ho 15 euro per i pedali comunque molti mi avete chiesto, come ho detto nello scorso video di ieri se i vlog, quelli dove parlo di moto faccia faccia stanno sparendo non stanno sparendo ragazzi ma solo che io magari non cioè per farci vedere la presenta questi che i vlog perchè magari che si quanti hanno più le riduzioni più like comunque vanno meglio con quel video andiamo a social monster del cash andiamo andiamo ok torniamo a casa torniamo a casa facciamo una tirata e 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